Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento meteo. Prima di tutto vi auguro un buonissimo Natale e passato un serenissimo Natale. Per prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Ora andiamo ad analizzare la giornata del 28 dicembre. Prima di tutto bisogna cominciare dalla giornata di oggi, quando in serata una massa d'aria molto gelida in discesa dalla Russia investirà l'Italia dalla porta della Bora. Favorendo un crollo generale delle temperature. Quindi che appunto al nord Italia, soprattutto sulla Pianola Padano, si formerà il cosiddetto Cuscino Padano. Cioè uno strato di aria molto gelida, fredda, completamente sotto zero, molto vicino al suolo. Poi c'è un minimo ripressionario creatosi tra il Mar Tirreno e il Mar Ligure che appunto andrà a tirare aria mite umida, quindi correnti calde. E appunto le correnti calde andando a scorrere sopra il cuscinetto gelido favorisce la formazione di abbondantissime nevicate, talvolta abbondanti anche in pianura. Tra la serata di domenica 27 e appunto la mattina di 28, poi per tutto il giorno del 28, ci aspettiamo abbondantissime nevicate fin sulle pianure del Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Occidentale. Infatti si vedrà la neve in città come Cugno, Torino, Novara, Alessandria, ma anche Varese, Lecco, Milano, Como, Bergamo, Parma, Piacenza, dove sicuramente al 95% saranno imbiancate. Per quanto riguarda il nord ovest. Postandoci più a est verranno imbiancate città come Trento, Bolzano, Belluno e non si escludono fiocchi in città di pianura come Verona, Padova, Udine e Vicenza. Per ora è tutto, ancora Buon Natale e ci vediamo al prossimo apportamento a meteo. Tra poco uscirà un altro video con gli aggiornamenti degli accumuli previsti per le singole città, quindi se seguitevi nel canale. Alla prossima!